bella a tutti ragazzi saluto da birko e bentornati su gameplay channel su 7day to die the survival or the crafting game allora amici proseguiamo la nostra avventura esplorativa in questi ultimi gameplay fatti appunto su 7day to die come vi ricordate siamo appunto nel bioma innevato la volta scorsa abbiamo visto cos'è che era mi sembra la segheria credo dove c'è stata poi anche una brutta esplosione con la minibike che ha rischiato davvero davvero tanto e adesso andremo avanti appunto a esplorare eccoci qua tra l'altro sta nevicando la c'è un bello zombone come al solito allora vediamo un po dunque quindi io potrei andare avanti di qua e vedere dove dove andiamo a finire adesso abbiamo il problema che sta pure nevicando quindi la strada anche non si vede più comunque si vede ben poco allora qua abbiamo anche un'altra struttura mi sembra una casa normale giusto sì mi sembra una casa normale guarda che figata anche le macchine piene di neve che spettacolo mamma mia allora diamo intanto un attimo un'occhiata vabbè non posso prenderla perché ho l'inventario pieno però sinceramente non mi interessa un gran che tanto carta comunque al momento ne abbiamo diamo un'occhiata in giro giusto per vedere sento di passi è giusto per vedere di trovare magari del cibo chi è chi è avanti zombie che stanno scassando tutto allora ne ho vedere chi è rompiscatole di turno che guardalo qua aspetta 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 ok va bene allora tiriamo giusto schifo ecco se lo piglio magari non sarebbe male tiriamo giù questo perché sennò ci rompe le scatole con la nostra esplorazione ok boh questo è andato non c'era dentro neanche una ceppa di nulla vabbè va bene allora diamo un'occhiata un po in giro dunque poi avevo controllato non c'era sinceramente nulla di che purtroppo non ho trovato cibo che in realtà è l'unica cosa che ci potrebbe servire in questo momento allora qua direi che non c'è nulla vabbè chiudi la porta perché fa corrente allora andiamo di sopra vedere ma di solito con le case messe così male non c'è mai niente di interessante infatti non c'è una ceppa di nulla ok niente allora possiamo proseguire il nostro viaggio la c'è uno zombie si ma lì fermo lì che per il momento non ci dà fastidio allora faccio qualcosa che potrebbe tornarci utile allora il macete o macete che dir si voglia e questo assolutamente non lo prendo allora lo snow lo togliamo via anche perché tra l'altro ragazzi al momento il macete non l'avevo ancora mai trovato mi prenderei questo vabbè gas ragazzi non me ne sto lì a prendere perché ne abbiamo un fottio quindi direi che non mi serve ok diamo un occhio alla macchina niente di che va bene tanto per il momento ragazzi benzina ne abbiamo un casino allora pigliamoci un po magari un paio di painkiller perché ho la salute piuttosto bassuccia quindi direi che è il caso di prenderci qualcosa e curarci un po allora io proseguo di qua ragazzi sperando sempre di non andarmi a beccare il bioma il bioma radioattivo che credo sia questo scende un secondo eh sì eh sì niente purtroppo il bioma radioattivo è questo quindi di qua non si può andare ragazzi qua assolutamente non si può andare probabilmente indica la fine della mappa nel senso che su questo gioco se non ho aspettato che qua c'era uno scatolone che non ho mica visto se non mi ricordo male appunto la fine della mappa è diciamo bloccata appunto dal dal bioma quello radioattivo dove appunto non si può andare poi eventualmente correggetemi se sbaglio nei commenti ragazzi ma io avevo provato ad andarci anche con quasi tutta la tuta antiradiazioni fatta ma sinceramente sono schiattavo lo stesso per cui ho idea che di lì proprio non si possa andare allora fermati un secondo perché io voglio vedere intanto un attimo qua e sapete che in questi tronchi è sempre bene controllare infatti c'è una flashlight però vabbè direi che questa non mi serve vediamo qua visore notturno ce l'ho già andiamo a dare un occhio di qua vediamo cosa c'è niente di che ok va bene allora iniziamo a avere un po fredduccio però io direi allora qua sopra credo che comunque ci sia tutto il bioma il bioma radioattivo sinceramente di qua e dove appunto siamo andati prima potrei andare magari di qua e vedere che cosa c'è quindi però magari andare in questa direzione andare a vedere se appunto non becchiamo anche di qua il bioma radioattivo forse no però iniziamo a salire parecchio tra l'altro vai piano ok siamo praticamente in cima al cupuzzolo andiamo magari a vedere se qua c'è qualcosa di interessante allora qua vedo una casa qua vedo una casa ragazzi oh 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 mamma mia e che cacchio c'è qua dentro ragazzi che cavolo ok qua bioma radioattivo va bene porcaccia la miseria ma quanti cavolo ce n'è di qua mare ma quanti sono ragazzi e sono un po tantini è qua sono un po tantini quindi credo anche che là dentro ci possa essere qualcosa di interessante visto quanti sono io proverei un po a fare piazza pulita se ci riusciamo ok oh cacchio arrivano anche di qua porcaccia miseria non è questo va mamma mia quanti cavolo sono occhio occhio allora mine io non ne avevo più maremma schifa non ho guardato ma guardate qua quanti cacchio sono che cavolo c'è una festa qua spero poi di ricordarmi dove ho messo la mia minibike ragazzi spero di non finire male come l'altra volta è perché questi qua sono tosti da tirare giù sono veramente veramente tosti ok facciamo un po il giro della casa anche perché questa qua mi sembra una struttura veramente veramente grossa e dato quanti zombie ci sono ho idea che possa essere interessante qua bioma radioattivo quindi qua non possiamo proseguire per cui occhio sì qua credo che sia una bella zona ragazzi vabbè dai la minibike in teoria dovrei comunque ritrovarla ok e questi qua sono veramente veramente tosti ragazzi bisogna stare attenti perché se ci stonano guardate qua ma quanti cacchio sono che cavolo c'è la festa qua ah festa di paese c'è in faccia t'ho preso dov'è la mia minibike eh non mi ricordo dove è la minibike ma vabbè comunque si è qua in zona quindi dovremmo poi riuscire a ritrovarla ma guardate qua quanti cacchio sono ragazzi porcaccia la miseria vai un altro è andato e si è una bella struttura questa qua ci tengo a vederla perché secondo me può essere interessante il problema è che ora che li ammazzo tutti famonotte eh dai morite un po vai tre o quattro li ho stesi comunque wow 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 ok ma sono rischiata un po' troppo il problema è che non mi ricordo più se ho mine perché se avessi qualche mina ragazzi io li faccio saltare per aria ma ho idea di no eh no 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 mi sa proprio di no purtroppo ragazzi mi sa che non ho mino che un altro l'abbiamo ucciso va bene via 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 perché questi qua sono anche veloci sono grossi ma sono anche veloci tra l'altro sto facendo fuori tutte le cacchio di munizioni porcaccia la miseria qua ce n'è ma io non è che con la pistola magari faccio un po' più di danno ah fan bagno si se avessi proiettili magari ci potrei anche provare ma purtroppo non li ho vai un altro è andato vai no la figata qui con con questo fucile ne prendiamo anche due a volta in realtà vai vai un altro è andato ahi abbiamo quasi finito eh ragazzi abbiate pazienza ma c'è il resto eh devo per forza farli fuori tutti perché se no ovviamente non mi fido assolutamente a entrare in queste condizioni dai 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 quanti siete rimasti? pochi dai ormai questo qua è andato l'importante è che non mi arrivino da dietro ok dai anche quello è andato te sei l'ultimo speriamo vai ok allora te non hai niente intanto facciamo un po' un giro per gli zombie a vedere se hanno qualcosa di utile ok stavolta li abbiamo stesi tutti senza grossi problemi per fortuna perché come sapete appunto questi qua sono veramente veramente cazzuti tanto aumentiamo livelli alla grande ok allora allora io vorrei però adesso ritrovare magari la mia minibike se mi ricordo dove cacchio l'ho messa e portarla sinceramente qua vicino la cacchio è la minibike andiamo un attimino a vedere se la ritrovo ragazzi perché ci sono ora meno 5 gradi allora qua no perché è tutto il bioma quello radioattivo quindi quindi sarà di qua da qualche parte immagino vabbè la pala francamente non me ne faccio nulla andiamo a vedere ah eccola là ok vai abbiamo ritrovato la minibike perfetto così la portiamo vicino a casa ragazzi io a questo punto ne approfitterei a esplorare ben benino questa zona eh sì anche perché ho bisogno assolutamente di mettermi un attimo al caldo perché fa un freddo veramente esagerato ecco questa qua è pure chiusa ti pareva vabbè tiriamola giù vediamo di accendere ah c'è ancora ferro ok no ancora chiusa niente devo tirarla giù tutta vediamo di accendere magari un fuoco ragazzi perché dai 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 tirala giù allora oh bene oh qua abbiamo anche la fornace fantastico allora allora nella fornace intanto iniziamo a metterci questo e iniziamo a accendere così almeno ci diamo un attimo una scaldata ragazzi eh la pentola direi che non mi serve questo qua è proprio tipo baita di montagna che figata che spettacolo ragazzi questa struttura ancora non l'ho vista cioè con i tronchi fatta con i tronchi in legno che spettacolo mamma mia che spettacolo c'è una vrencia ma almeno non mi serve ci sono un sacco di pentole qua ragazzi eh sì questa qua è proprio una baita è proprio la classica baita di montagna ok allora vediamo qua dentro cosa c'è direi che non c'è nulla qua ma qua credo esco nuovamente no no c'è una stanza in più aspetta 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 perché ho idea che ci sia qualcosa in più guardiamo dai tiriamo laggiù un attimo eh sì assolutamente sì allora c'è una bella stanzettina con dei letti con un cesso che vabbè francamente non mi interessa ah qua c'è anche un giaccone un giaccone un giaccone bello pesante che può essere ci ehm ci dia un pochino più di protezione penso proviamolo magari proviamolo un attimino rispetto al mio ehm sì infatti vedo che la temperatura adesso sta salendo quindi sicuramente ragazzi rispetto a questo ci dà parecchia protezione in più quindi assolutamente mi tengo questo eh buono questo assolutamente sì abbiamo un bel po' di proiettili che abbiamo trovato fantastico e c'è anche un piano di sopra ragazzi non l'avevo mica visto questa qua è chiusa adesso ma pensi di bloccarmi la strada con una botola dai 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 tirala giù ok ok vai allora oh perfetto vedo già una bella cosettina interessante ovvero una gran bella cassaforte che ovviamente ragazzi tiro giù subito perché sono curiosissimo di vedere cosa ci sarà all'interno andiamo a dare un occhio comunque lo stile di staccata qua mi piace un casino hanno proprio riprodotto la classica baita di montagna è una figata assurda ok vai che l'abbiamo aperta allora allora ci sono un bel po' di parti ma in realtà a parte questa dello shotgun che è addirittura 600 tutto il resto francamente direi che non me ne faccio nulla quindi quindi cosa potrei lasciare giù cosa potrei lasciare giù sinceramente non lo so allora questo me lo tengo vabbè se no possiamo mangiare questo che tanto comunque avremmo anche un po' di fame ok vai questo qua ce lo buttiamo via ci prendiamo questi qua va bene allora io in realtà ho anche già lo shotgun quindi potrei fare anche questa bella cosa qua lo vado a mettere qua queste le butto via così abbiamo fatto uno shotgun dove sei dove sei di livello 323 quindi mi è aumentato un casino lo shotgun per cui direi che assolutamente siamo a posto vediamo come altre parti che cose che ha allora shotgun short barrel che è questo me lo potrei prendere che è questo livello direi molto molto più alto perfetto quindi così lo facciamo aumentare ulteriormente allora lo shotgun ah no va bene in realtà avevo questo che pirla non l'avevo mica visto avevo questo che è molto molto più alto quindi questo lo butto via questo te lo metto qua e questo lo butto via ok abbiamo fatto lo shotgun di livello 413 ottimo ragazzi veramente veramente ottimo così adesso lo shotgun sarà decisamente più efficace rispetto a prima ok lì avevo guardato tutto si poi altro direi che altro direi che non c'è allora ragazzi qua ho visto che sicuramente tutta la parte alta ho idea che ci sia tutto bioma radioattivo vedete anche di qua uguale quindi penso che sia proprio questa la fine della mappa almeno per quanto riguarda il nord potrei provare eventualmente ad andare poi verso sud a questo punto perché direi che altre soluzioni mi sa che non ne abbiamo allora facciamo così questo me lo mangio io il bedroll non ce l'avevo quindi vado un attimino a farmelo così direi che possiamo comunque stabilirci momentaneamente qua cioè giusto mettere appunto giusto mettere il letto così da che cacchio è si ma io ho bisogno delle fibre mi dai le fibre col bianco non vedo una pava di nulla ok casino perché sta pure nevicando non vedo un cacchio ok non so se ci bastano già per fare il letto vediamo no in realtà no ne servono molto di più comunque le prendiamo tanto per fortuna qua fibre ce ne sono ok dai mi prendo un po' di fibre così vado a fare un po' il nostro belletto che cacchio fai le fibre ho bisogno ma porca la miseria oh alleluia ok vai prendi queste prendi anche queste vai adesso dovremmo poterlo fare sì perfetto allora la minibike ce l'abbiamo qua vediamo qua dentro cosa c'è niente della carta sinceramente mi interessa qua questo lo sapevo già ma comunque aumentiamo un po' di livello che non fa mai male e poi quale altre cose in giro non mi pare di vederne un po' di spazzatura solita sinceramente niente di che ok no direi che di altro non c'è nulla va bene va bene allora direi che torno in casa sì con questo giacone comunque sono molto più caldo rispetto all'altro quindi la neve la buttiamo via dove che l'ho fatto il letto qua ok allora io il letto me lo vado a posizionare qua così almeno abbiamo anche il nostro punto di spawn e niente ragazzi allora io direi che posso concludere questo nuovo episodio dedicato appunto all'esplorazione della mappa di 7day to die direi che adesso visto che siamo appunto arrivati immagino al limite quanto meno nord della mappa proseguiremo poi magari dal prossimo episodio ad andare verso sud e vediamo se riusciamo a trovare magari qualche città vorrei capire più che altro se c'è magari una città in questo bioma innevato sinceramente non lo so magari proverò ad andare anche verso diciamo la mia sinistra per scoprire anche tutto il pezzo della mappa costeggiando praticamente il bioma radioattivo e vediamo se appunto magari riusciamo a trovare anche in questo bioma una città o comunque insomma un villaggio un qualcosa dove ci siano delle strutture utili da visitare quindi proseguiremo la nostra esplorazione mi raccomando ragazzi vi ricordo un bel po' di like per continuare a sostenere questa serie e sostenere tutto il canale condividete soprattutto commentate datemi anche voi i vostri consigli magari su dove andare se sapete delle coordinate particolari in cui c'è qualcosa di interessante ovviamente scrivetemele così io le andrò a visitare detto questo amici da 7day2die direi che possiamo salutarci noi ci rivecchiamo al prossimo gameplay ciao belli